Ciao e benvenuto a questo primo video di oggi. Bene, oggi ti insegno a praticamente esplorare la scala wall tone scale, la scala toni interi e a comporre solo usando questa scala. Accordi maggiori, minori, quelli che preferisci, in questo caso farò accordi maggiori solo con la wall tone scale. Wall tone scale è dal primo per dire dal fa, dal fa fino al fa tredicesimo e fai un tono, tutte note di distanza di un tono, uno, distanza di un tono, 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 senti, e questo è la scala toni interi, Claudio e Bussi la usava tanto. da questo tocco fantastico, immaginativo, è proprio una semi toni, è solo toni. Fantastica la scala, questa idea fantastica. E ti puoi mettere a fare un accordo maggiore. Diciamo che in origine gli accordi devono essere diminuiti, gli accordi diminuiti sono secondo me gli accordi migliori. Questo è gli accordi giusti della scala, però è possibile suonare anche B chord. e varie a seconda, e poi puoi mettere il ritmo che vuoi, proprio perché qui scendo. Poi puoi variare a fare B E quindi il concetto è che rimani comunque in questa scala e suoni a distanza di un tono. Dal primo fa, anzi, al secondo fa, tredicesimo tasto, primo tredicesimo. E ti metti a sviluppare maggiori, minori, puoi fare anche le maggiori, la migliore, la migliore... la migliore... la quarta... ...Basta che tieni lo schema dei toni. Ciamposti a vedere già. Grazie.